Finisce 2-2 in seconda categoria tra Fortis, Arezzo e Fulgor Castelfranco, una partita che in parte si è decisa dal discritto. La gara si sblocca al diciottesimo, Fulgor in vantaggio, Guizzo in area di rigore di Cardinali che supera il diretto avversario e mette alle spalle di Claudi con un velenoso pallonetto. Dopo alcune occasioni per la Fortis arriva il raddoppio della Fulgor, azione personale di Parri che si procura un calcio di rigore, trasformato esemplarmente dal capocannoniere valdarnese, 2-0. Nella ripresa però c'è la rimonta della Fortis, dopo tre minuti altro calcio di rigore, questa volta in favore della squadra di casa, atterramento di Rossi. Brunacci dal dischetto non sbaglia e riapre la partita. Il pressing degli Aretini continua e trova i suoi frutti. A 20 minuti dalla fine Rossi mette in rete una irresistibile rasoiata di Guerrini, uno dei migliori che nel rimpallo con un difensore tocca per ultimo il pallone. Finisce 2-2, un punto prezioso arrivato in rimonta per la Fortis, conquistato con una formazione tra le migliori del campionato. Quanta sofferenza in campo, ma quanta gioia, 2-2 contro la terza della classifica generale a due punti dalla vetta. Sì, no, dobbiamo essere moderatamente soddisfatti, nel senso che ancora facciamo quegli errori che ci compromettono le partite. Però, ripeto, il fatto che noi lavoriamo settimana per settimana, questa è la dimostrazione. Siamo comunque sempre rimaneggiati, oggi abbiamo fatto meglio di domenica scorsa perché invece di 60 minuti ne abbiamo fatti 90 e il risultato è stato che avendo giocato tutta la partita non abbiamo perso. Fondamentalmente è un primo segno che dovevamo ritrovare per non compromettere le partite e non perderle. Questo è stato fatto, quindi da oggi cerchiamo di ripartire per limare altri errori, cercando di mantenere quello che di buono abbiamo fatto oggi. La partita in realtà, sì, obiettivamente la Forti Sarezzo è stata più propositiva, però quando andiamo sul 2-0 alla fine del primo tempo, si deve poter chiudere, vista anche la nostra posizione classifica, che esprime appunto una posizione di forza, potevamo portarla a casa il risultato. Con questo devo dire che però la Forti Sarezzo non è la ultima in classifica e questa è la verità. Dal canto nostro possiamo solo dire che è stata forse un po' di difficoltà perché avevamo una rosa a disposizione, che non erano, diciamo così, anche se sono stati rigenerati o messi in posizione i giocatori che non era forse il loro loro naturale e questo lo sapevamo fin dall'inizio. Non possiamo dire recriminare le cinque assenze che avevamo, ma perché chi ha giocato e chi gioca è sempre all'altezza. Devo dire, però, ecco, la nostra è una squadra che è nata quest'anno proprio nell'ultimo periodo e che stiamo facendo bene e che c'è un buon gruppo, un bravo allenatore e una brava società dietro e sono orgoglioso di fare il diretto sportivo.